bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite racchiuse in pochi minuti nel video di oggi infatti parleremo e vedremo un paio di spezzoni interessanti per quello che riguarda sia il nuovo set di laklan ma vedremo anche le prime immagini ufficiali del nuovo mortaio e parleremo anche di tutti i leaks che sono stati scoperti in queste ultime ore prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un argomento davvero molto interessante perché arriva direttamente dal tweet di fortnite status che dice siccome i mac e i sistemi operativi ios ios sono bloccati dagli update di fortnite noi ci impegniamo a garantire un totale di v bucks bonus per i giocatori su queste piattaforme da spendere su ogni piattaforma i v bucks garantiti verranno dati a partire dal 9 novembre quindi ragazzi v bucks gratis per tutti i giocatori di mac oppure da sistemi operativi ios e arriveranno appunto entro i prossimi giorni spero che li abbiate già ricevuti questa è un'immagine che ci arriva da chi già li ha ottenuti e se per caso avete un account che potete magari aprire su ps4 su pc o comunque su nintendo switch i v bucks verranno comunque accreditati al vostro account e li potrete utilizzare quindi grazie a p games almeno per fare qualcosa e alleviare le sofferenze di chi non può giocare a fortnite da questi dispositivi andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi che è uno spezzone video vi ricordo che probabilmente dalla pace che dovrebbe arrivare questa settimana parliamo quindi della 14.60 in realtà non lo sappiamo ancora quale sia dovrebbe esserci anche la modifica del bus della battaglia ve lo voglio far vedere direttamente in game eccolo qua come vedete è diverso da quello che abbiamo in questo momento in game perché tutta la parte alta è praticamente corazzata come al solito c'è di mezzo lo zampino di tony stark che sta cercando di modificare il classico autobus per andare chissà dove perché non lo sappiamo ma cerchiamo di capirlo man mano che passano i giorni quindi aspettatevi di vedere il nuovo bus in game andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché abbiamo finalmente un'altra conferma per quello che riguarda il bundle di ps5 vi avevo fatto vedere con l'ultimo aggiornamento il set di skin che tutti avevano inteso fosse per ps5 perché i colori erano veramente super azzeccati ma è saltato all'occhio di qualcuno un dettaglio come state vedendo nella fotografia qua di fianco che confermerebbe i nostri dubbi sul lato del backpack elevation che fa parte di una delle skin ci sono chiaramente disegnati i loghi di playstation questo vuol dire che all'acquisto di ps5 una volta che installerete fortnite e loggerete con il vostro account otterrete questa skin una bella bellissima skin e sicuramente un modo per farvi notare nella lobby perché avete la ps5 quindi tanta tanta roba un'altra skin totally free e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità per quello che potrebbe essere il futuro di fortnite fortnite monthly crew pack allora ad alcune persone è successo che durante un quesito avete presente quei quiz che vi vengono detti a random ogni tanto mentre usciti da una partita e siete in lobby alcuni li hanno abilitati alcuni li hanno disabilitati io li ho tolti personalmente hanno chiesto se fossero disposti a pagare un abbonamento mensile per fortnite non è molto chiara questa cosa ma sembrerebbe che sotto pagamento di un abbonamento mensile si potranno ottenere degli outfit extra che altrimenti non sarebbe possibile ottenere insieme agli outfit anche il pass battaglia e 1000 vbux che vengono dati gratuitamente ogni mese più ovviamente come state vedendo in questo in questo momento una skin esclusiva che altrimenti non sarebbe possibile ottenere è una cosa un po' particolare perché è un passo avanti per quello che riguarda lo spendere soldi su fortnite non so se essere d'accordo oppure no perché non non influisce ovviamente sul gioco quindi voi potete giocare gratuitamente a fortnite però una roba del genere vincolerebbe il fatto di non essere più non avere più la possibilità di scegliere se shoppare o no il pass battaglia che per quei 10 euro che sono magari uno non li vuole spendere sono infatti delle dei vari step su quello che vi ho appena detto il primo la sottoscrizione mensile include il battle pass un outfit e i suoi il suo per il suo back pack il suo piccone le sue varianti e 1000 vbux ogni mese lo abbiamo visto perché quella che state vedendo in questo momento la seconda voce è una delle domande che veniva chieste nel quix nel nel quiz vorresti un abbonamento mensile da 15 dollari e 99 il problema è che l'altra domanda diceva lo vorresti da 18 e 99 io ragazzi qua lascio a voi la stessa domanda che hanno fatto quelli di fortnite vorreste un abbonamento mensile con queste cose scrivetemelo qua sotto nei commenti e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è stata anche liccata la prossima coppa la one percent cap che è una cosa veramente interessante perché si gioca in coppia si gioca in duo però solo nelle regioni na e na ovest passano solamente l'uno per cento dei giocatori sia in singolo sia in coppie la la competizione sarà il 17 novembre dalle 3 alle 6 eastern time e il 17 novembre ovviamente le finali dalle 7 alle 10 provate a cambiare i server in in america se volete provare a partecipare non riesco a farvi vedere ragazzi la skin di lacan la vedremo domani mattina non vi preoccupate per adesso vi ringrazio per aver guardato questo video news mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e noi ci vediamo alle 8 in live su twitch con la live vintage ciao 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 Grazie a tutti.